Buonasera, saluti, ben trovati. Architetto Corcelli ci ritroviamo e noi la insegniamo. Da qua dobbiamo avere paura, volete essere così giunti da presentarci questa giornata di paura? Si, si parla di popolona. Dobbiamo preoccuparci o è una cosa... No, non è assolutamente preoccupante. Il rischio di prevenzione e nel momento in cui viene ritrovato questo gas all'interno di benefici strategici pubblici di cui praticamente vanno risolvere le problematiche, dei piani di uti però, del manufatto. Quindi non è un qualcosa di pauroso perché c'è sempre stato. È nuova la normativa però, hanno dato poco tempo per gli addirittimenti per cui abbiamo chiamato gli esperti che ci parleranno sia del profilo formativo, sia della valutazione del rischio. Questo è il motivo per cui qua abbiamo tutto il Correggio per l'Isola Sorrentina, anche gli architetti, anche il Collegio dei Geometri. Auguri. Grazie.